Un servizio di teleassistenza gratuito, personalizzato per anziani e persone sole o fragili e quello attivato anche dal comune di Campobasso. Servizio finanziato dalla Regione Molise per offrire, ha spiegato l'assessore comunale alle politiche sociali Luca Praetano, sostegno, orientamento, ascolto a particolari fasce della popolazione in questo momento difficile. È finanziato dalla Regione Molise, è un servizio che consente di mettere in contatto, mettere in relazione le persone sole, fragili, anziane, con i servizi sociali dei comuni, quindi dei servizi sociali territoriali, così magari di esprimere eventuali esigenze, perché no, anche con la presa in carico. Si concorda quante volte bisogna chiamarsi, rapportarsi, relazionarsi con persone competenti e magari se emerge un'esigenza si cerca anche di far fronte. Il servizio si avvale del supporto degli ambiti territoriali, sociali e degli assistenti, sociali del comune e personale specializzato. Diciamo che le esigenze in questo periodo possono essere le più svariate, sia di carattere logistico, magari l'assistenza legata all'acquisto dei beni di prima necessità, dei farmaci, ma anche il bisogno di sfogarsi, di poter rappresentare i propri problemi, anche di carattere psicologico, che poi se emergono ovviamente vengono indirizzati dalle persone competenti, quindi dai psicologi che sono in servizio presso i servizi territoriali. Per accedere al servizio di teleassistenza gratuito bisogna presentare formalmente le istanze allo sportello unico servizio alla persona in via Cavurra a Campobasso con appuntamento da concordare chiamando il numero 351 688 4347. Nel comune di Campobasso esiste un numero dedicato, metteremo anche sul sito del comune di Campobasso, su quello dell'ATS. Si tratta di telefonare per prendere un primo contatto, poi c'è una sorta di presa in carico, diciamo così, e per cui poi si verrà contattati tutte le volte che si concorderà. Alla luce della situazione di come evolve, il comune di Campobasso intanto valuta iniziative da prendere. Sicuramente abbiamo l'esperienza di marzo che in qualche modo ci dà più o meno il quadro di quello che può essere e sulla base di quella faremo già, attiremo nuovamente dei servizi che attivavamo allora. Magari relazionandoci con i cittadini potrebbero emergere ulteriori esigenze, ne porto una su tutte. Immaginate che è una cosa tra l'altro che abbiamo anche rappresentato recentemente a Asrem e Regione, persone anziane, sole, affette da Covid senza nessuno che li possa assistere. Quindi questo è un problema serio, dobbiamo affrontare un caso prossimamente, ma questa è quasi una denuncia che voglio fare rispetto a tutte le istituzioni che si occupino di queste cose. Ci diano una mano perché non sappiamo come risolvere casi come questo, c'è l'aspetto sanitario e si dovrebbe in questo caso realizzare quello che in Molise manca, cioè l'integrazione socio-sanitaria.